Numeri poco confortanti li definisce così il Rotary Club di Battipaglia i dati rilevati dalle centraline installate con il progetto Safe Break Battipaglia. Anche per il mese di febbraio infatti sono stati sforati i limiti di legge delle concentrazioni di polveri sottili PM2,5 per 11 giorni, mentre le concentrazioni di polveri sottili PM10 sono state rilevate oltre i limiti di legge per 5 giorni. Proprio per quel che concerne il PM10 si è registrato inoltre un peggioramento nella seconda metà del mese.